Le due facce di un quartiere che vuole risorgere di un luogo che accoglie centinaia di famiglie che cercano di andare avanti ogni giorno e affidarsi a coloro che hanno fatto del volontariato la loro missione di vita, così come le associazioni che sono nate nel quartiere di Librino, così come la Caritas che da anni apre le porte agli ultimi. Siamo entrati all'interno della mensa Dusmet che insieme a quella della stazione centrale offre un passo a tutti coloro che ne hanno bisogno. Presso la mensa Dusmet e qui a Librino arriviamo a preparare fino a 150 pasti al giorno per famiglie prettamente del territorio della periferia di Catania, quindi tutti italiani, mentre per la mensa del pesentre arriviamo a preparare anche 450 pasti al giorno, da lunedì alla domenica, più 70 pasti per l'unità di strada per le persone senza fissa dimora e soprattutto nell'emergenza degli sbarchi arriviamo anche a superare i 550 pasti. Ci sono molte famiglie del territorio, non sono fratelli e sorelle e stranieri che vengono da situazioni di emergenza sbarchi e cercano una speranza, ma ci sono tante famiglie italiane che hanno tante problematiche che girano attorno alla loro quotidianità ed ecco perché la Caritas Diocesana tramite i propri centri di ascolto cerca di dare una risposta concreta e lo fa quotidianamente. Proseguiranno per tutta l'estate i servizi della Caritas Diocesana che manterrà a disposizione degli assistiti le due mense, le donazioni, la rete sanitaria, il centro di ascolto dell'Elpe Center e l'unità di strada. Abbiamo due centri di ascolto, il centro di ascolto diocesano per le famiglie italiane in via Quicella e il centro di ascolto dell'Elpe Center per i migranti che vengono alla stazione che chiaramente è il punto centrale che collega sia con la stazione che con il porto. La risposta che noi cerchiamo di dare, che spesso sopperiamo a delle carenze da parte delle istituzioni, è quella di dare concretamente non una forma di assistenzialismo ma una forma di integrazione e di aiuto come per esempio il microcredito. E infine un appello a non aver paura a chiedere aiuto. Noi invitiamo tutta la cittadinanza che ha bisogno di una parola, di un conforto o di un aiuto concreto, materiale, di non vergognarsi a venire in Caedas perché nel periodo estivo, come nel periodo invernale, autunnale, primaverile...